Il Paradiso delle Signore, venerdì 15 novembre 2019 Anche Irene deve interpretare una parte nel video del Paradiso e il suo ruolo sarà quello di Jackie. Sono tutti felici anche dell'interpretazione di Elsa e dell'amatissima Margherita. Riccardo confessa a Cosimo che vuole partire con la sua amata, lasciando l'Italia, malgrado la ragazza sia sposata. Cosimo però viene messo sotto torchio da Adelaide e il ragazzo non riesce a fare a meno di dire la verità. Adelaide svela il piano di Riccardo e Nicoletta a Cesare e gli assicura che sta pensando ad un piano, che presto potranno mettere in pratica. I due innamorati hanno tutto pronto e manca soltanto il momento della partenza, ma purtroppo non tutto va come previsto per Diamante e l'uomo riesce a compiere delle mosse che compromettono la partenza. Riccardo e Nicoletta non possono più partire e la ragazza è costretta ad andarsene con Cesare. Rocco intanto scopre che Agnese ha combinato un incontro tra lui e la nipote di Amalia e non è affatto facile.